Pugazzi, I'm so tired, no non è assolutamente un riferimento e anche un commento a questo periodo piuttosto rutilante per letture metropolitane. Andiamo avanti, ne mancano due, siamo arrivati all'età fragile di Donatella di Pierrantonio, libro anch'esso parte della sestina del premio strega. Libro che ha vinto il premio strega ragazzi. Giovani, esatto, è pubblicato da Inaudi. La di Pierrantonio è una scrittrice assolutamente di grande livello, ha scritto libri bellissimi, molto amati, molto letti, è una delle scrittrici più lette in Italia, nel senso proprio dal punto di vista di successo di pubblico. Della sestina probabilmente è la più letta. Forse è quella più letta, anzi quasi sicuramente. Magari la Valeria è andata bene negli ultimi libri, però insomma lei ha una storia più lunga. Tra l'altro mi fa sempre il fatto che lei fa la dentista. Forse la fa tutta, non credo che abbia mai smesso, anche perché non sarebbe secondo me una scelta intelligente smettere di fare la dentista. Chiamiamola, consigliamola. Comunque, il libro in questione è sentito all'età fragile e si concentra su una vicenda reale, un fatto realmente accaduto, un delitto, nello specifico quello che è stato chiamato il delitto del Morrone, un evento di cronaca avvenuto nel 1997. Siamo nei pressi di Passo San Leonardo sul Monte Morrone, appunto in Abruzzo, terra di nascita di Donatella di Pietrantonio. La storia è una storia veramente brutale. C'è un pastore di origine macedone che ha ucciso due ragazze. Una terza si è salvata ed è riuscita a testimoniare, a raccontare la sua storia. Questa vicenda è raccontata dalla voce di una donna, ovviamente i nomi sono tutti diversi, però insomma è evidente che è quella la storia. La protagonista è Lucia, che era giovane all'epoca di questo delitto e la cui amica, una delle migliori amiche, è questa ragazza sopravvissuta a questo delitto. Lucia è cresciuta, è diventata donna, è diventata madre, ha avuto una figlia che non sta più riconoscendo, nel senso che è una figlia che è andata a studiare all'università fuori dall'Abruzzo, mi pare a Milano o a Bologna, non ricordo, e sta vivendo un momento completamente di perdita di se stessa, è tornata in casa con la madre, però non è più la stessa e lei non sa bene come ripristinare la comunicazione con questa figlia. In più c'è un'altra figura che è quella del padre di Lucia, ovvero del nonno di questa ragazza, che è proprio il classico pastore abruzzese, chiuso, che non conosce il linguaggio dell'affetto, che è un padre un po' freddo da quel punto di vista, che però cerca di convincere Lucia, sua figlia, ad occuparsi del proprio terreno, del terreno che lui vuole lasciarle in eredità, che è il terreno dove è costruito questa sorta di campeggio ormai in disuso, che è stato il campeggio dove erano in vacanza queste ragazze che poi sono state uccise. Quindi insomma c'è tutto un collegamento ovviamente da sfondo e da protagonista fa la terra, la terra d'Abruzzo e in tutte le sue molteplici accezioni dal punto di vista ecologista quasi, perché a un certo punto c'è anche una battaglia ecologista che sembra essere l'unica cosa che sveglia questa ragazza, Amanda, che è un po' perduta. E poi c'è anche una riflessione sul passato, su come il passato influenzi il presente e su come queste storie che smettono di essere raccontate in realtà poi restano sempre irrisolte. È un libro bello, sicuramente bello. Se dovessi forse fare un confronto, anche se non credo che sia neanche giusto con i libri passati della di Pietrantonio, è forse un pochino più debole dal punto di vista della forza della scrittura, però è un libro sicuramente molto molto bello. A proposito di uso della lingua, appunto Donatella di Pietrantonio ha raccontato in diverse situazioni l'uso che lei fa di questa lingua e nello specifico Flavia ha chiesto su questo libro, che linguaggio ha scelto. E lei ha parlato di lingua avara. Sentite qui. Rimaniamo sulla questione della lingua, qui della lingua mancante. È un tema a cui io tengo molto per essere io stessa cresciuta in una famiglia dove c'era questo tipo di lingua molto avara, in cui non esistevano le parole relative agli affetti, ai sentimenti, all'amore, ma anche le parole astratte. Esistevano solo parole molto legate alla terra, molto concrete. Ne parlavamo anche giorni fa. Una volta mi sono divertita a contare quante parole ci fossero in dialetto per dire zappa, ed erano una decina, perché riguardavano la grandezza, la forma, il tipo di uso che se ne faceva, il tipo di manico, quindi zappa, zappette, magari bledendere, però poi non c'erano le parole per dirsi chi sei tu per me, che cosa provo io per te. E quindi anche questa parola amore, che in fondo era il fondamento di questa famiglia che costruiscono questi due coniugi, questi due genitori, non veniva mai pronunciata. Non che proprio non esistesse, ma era una parola quasi pornografica. Si usava per indicare gli animali in calore, per cui per dire di una persona che perdeva il controllo e quindi si comportava in modo strano, si diceva, fa come la pecora innamorata. Ecco, questo per dire, poi per riprendere la domanda di prima, che cosa rovina le famiglie? Forse anche questo, l'inesistenza di una lingua, delle emozioni, degli affetti, e a volte succede, possiamo superficialmente pensare che in fondo non ce ne sia neanche bisogno, che bastino le posture, gli sguardi, i sorrisi, le azioni, ma io non credo che sia proprio così. A volte, quando non ci sono le parole per dirlo, può sembrare che non esistano nemmeno gli affetti sottostanti. Questo io ho visto nella mia vita e questo vivono i personaggi, qui è Lucia che ci racconta il mutismo con cui i suoi genitori l'hanno concepita. Grazie.